Bentornati a un nuovo appuntamento con obiettivo sostenibilità anche oggi siamo qui insieme a voi per parlare di aziende realtà associazioni che hanno fatto del green e della sostenibilità a 360 gradi veramente un qualcosa di fondamentale per loro e oggi siamo qui per parlare di un'azienda storica di verona ossia vecomp spa e siamo insieme responsabile della comunicazione francesco masini benvenuto francesco grazie allora oggi ci parli di una realtà che in realtà conosciamo già bene almeno noi e che in realtà il green già a partire dal logo perché dopo andremo a vedere il sito è tutto verde quindi diciamo che già partiamo già partiamo bene con il piede giusto però parlaci un po' per chi ancora magari non conoscesse questa realtà chi siete e cosa fate vecomp è un'azienda informatica che è nata nel 1981 quindi ha superato abbondantemente i 40 anni siamo specializzati in soluzioni software gestionali per studi professionisti e aziende piccole e medie imprese ma la nostra specializzazione è sulla parte appunto gestionale quindi vuol dire che seguiamo l'informatica che serve per far lavorare gli studi professionisti e le aziende ecco parliamo adesso entriamo nel merito della della tematica green della sostenibilità perché vecomp non parliamo chiaramente di di green nel vero senso della parola cioè di sostenibilità ambientale però avete qualcosa che fare comunque con quella transizione con la famosa scusate transizione tecnologica e green vero sì sì anche per il logo che adesso non tra distingue i nostri colori sono un verde bel verde che sicuramente richiama tutte le tematiche green non è fatto a caso nel senso che noi qualche anno fa abbiamo fatto una restyling del logo della nostra identità richiamando questo colore che è un po proprio part di come noi ci vogliamo porre non perché il green vada di moda non perché sia anche un aspetto della sostenibilità su cui noi veniamo particolarmente misurati ma semplicemente perché siamo un'azienda informatica che inquina come inquinano tutte le aziende di servizi quindi abbastanza poco su cui facciamo le nostre attività di attenzione cioè ricicliamo la plastica facciamo attenzione alla carta anzi investiamo molto per far stampare meno essendo un'azienda che digitalizza i processi però diciamo noi non non ci misuriamo troppo sull'aspetto ambientale ma aiutiamo le aziende laddove debbano fare anche oltre alla transizione digitale la transizione energetica la transizione per il rispetto dell'ambiente perché perché significa automatizzare o velocizzare processi logistici di produzione ottimizzare gli stoccaggi e su questo ovviamente abbiamo le soluzioni software che permettono di modificare questi processi e all'inizio dicevamo che sostenibilità in realtà non significa solo sostenibilità ambientale ma anche diciamo sociale quindi a livello di persone a livello umano e la cosa bella è che proprio nella sezione chi siamo del vostro sito c'è il volto umano dell'informatica quindi diciamo c'è questo bel connubio insomma perché appunto sostenibilità non è non va in una sola direzione ecco quindi spiegaci un po' anche come siete sostenibili da questo punto di vista sì la sostenibilità sono i tre pilastri quindi abbiamo visto la dimensione ambientale c'è la dimensione sociale e c'è la dimensione organizzativa il volto umano dell'informatica che è un po' lo slogan che peraltro in un'intervista così nel 2020 in epoca di pandemia ci è stato accostato va proprio nella direzione di voler automatizzare scusa di voler migliorare i processi organizzativi perché solo così poi le aziende diventano davvero sostenibili e tu non puoi rendere un'azienda migliore più sostenibile più organizzata e attenta all'ambito sociale se non parti dalle persone il volto umano dell'informatica per noi è portare l'informatica che serve nelle aziende negli studi ma che sia anche valorizzata dal lavoro delle persone ti faccio un esempio noi possiamo portare tutta la tecnologia disponibile oggi vediamo anche l'arrivo dell'intelligenza artificiale ma anche di tanta tecnologia che continua a evolvere in ambito informatico ebbene tu lo porti nelle aziende negli studi poi però hai le persone che non ti seguono ma non perché sono cattive persone ma sempre per il semplice fatto che non reggono la velocità del cambiamento e poi molto spesso vengono mal formate su sull'utilizzo e il nostro la nostra missione è proprio questo fare attenzione che le persone comprendano cosa hanno tra le mani che quindi abbiano una consapevolezza degli strumenti e poi lo sappiano anche utilizzare questo è una dimensione per noi che ha rivoluzionato il nostro modo di costruire l'assistenza i progetti la parte commerciale la parte di comunicazione per noi tutto deve ruotare attorno a questo ecco il parato di intelligenza artificiale quindi prendo la palla al balzo per chiederti come si fa in una in un mondo che appunto è abituato a cambiare sempre di più a una velocità incredibile a starci dietro come azienda che si occupa insomma di informatica dal nostro punto di vista c'è una missione che ci siamo dati che è quella di filtrare quello che è adeguato al lavoro delle nostre dei nostri clienti quindi oggi ma anche prima l'evoluzione informatica tecnologica è in continuo è in continuo sviluppo ed è chiaro che per noi lo studio l'osservazione sono la parte centrale le studiamo guardiamo quello che arriva valutiamo cosa è disponibile oggi si fa un gran parlare dell'intelligenza artificiale diciamo che è qualche anno che negli strumenti di uso quotidiano la vediamo arrivare e l'abbiamo vista arrivare e tra l'altro la stiamo anche utilizzando cosa serve per il lavoro questa è un'altra dimensione un'altra questione perché calma e sangue freddo non tutto quello che sta arrivando sta davvero rivoluzionando il lavoro qualcosa lo sta cambiando alcune cose sono ancora un po acerbe sono ancora un po verdi per tornare al green senti come vedi il futuro della sostenibilità nel vostro settore intendo non chiaramente con l'ambientale ma come dicevamo prima quella sociale beh allora sulla parte sociale noi crediamo che le aziende quando sono in un contesto hanno una responsabilità ma su questo non siamo molto diversi da tante imprese che ci sono sul nostro territorio è pieno di imprese di imprenditori di professionisti che stanno molto attenti al contesto dove sono per noi ha voluto però responsabilizzare noi stessi e tutti gli stakeholders si dice tutti quelli che hanno a che fare con noi mettendolo nero su bianco cioè noi abbiamo proprio nel 2022 fatto un percorso per evolverci in società benefit quindi siamo diventati vecom spa società benefit che vuol dire affiancare agli obiettivi di profitto cinque obiettivi non profit che abbiamo individuato li abbiamo scritti ci siamo dati delle tempistiche degli obiettivi così capiamo anche cosa raggiungi e cosa no e sono obiettivi che hanno la funzione hanno lo scopo di portare un servizio alle persone e alla comunità dove sei dalla parte più legata al nostro business quindi portare cultura della trasformazione digitale a parti che sono magari meno direttamente legate al business ma che hanno un impatto diretto sui nostri collaboratori e sui nostri clienti i nostri fornitori quindi per esempio occuparci del gap scuola lavoro occuparci di diffondere cultura d'impresa occuparci della parità di genere della conciliazione vita lavoro e di alcune realtà che danno assistenza e aiuto agli ultimi e agli svantaggiati su sul nostro territorio e allora ti vado a chiedere in chiusura qual è il futuro di vecomp è il futuro di vecomp è deve essere sostenibile perché altrimenti non c'è futuro ma questa che sembra una frase fatta in realtà è veramente l'obiettivo che ci diamo cioè noi ci chiediamo ma da tra 5 10 25 30 anni la nostra azienda non solo ci sarà ma porterà ancora valore alle persone che vi lavorano e al territorio per fare questo devi cambiare continuamente adeguare continuamente l'organizzazione devi guardare quello che accade quindi devi avere gli occhi attenti a quello che sta fuori e devi essere molto attento ad essere attrattivo per le persone che vogliono lavorare perché in un momento in cui il lavoro è diventato così disponibile tu per andare a conquistare le persone di valore devi avere qualcosa in più degli altri questa è la nostra missione in questo momento fondamentalmente il segreto è non stare mai fermi assolutamente e sempre all'ascolto e sempre all'ascolto assolutamente sì Francesco io ti ringrazio per essere stato nostro ospite un piacere e un grande in buca al lupo insomma per il futuro grazie grazie benissimo allora anch'io vi saluto grazie per essere stati con noi anche oggi al prossimo appuntamento con obiettivo sostenibilità grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti